Musica Si 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 game over game over game over Napoli battuto si 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 al diavolo il fantacalcio mannaggia a Kolarov Ma non me ne fotte niente il fantacalcio sono arrivati i tre punti col Napoli Si si goto 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 Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui a Giappiazz Oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video Siamo appunto qui nel Giappiazz commentari per commentare il post partita ragazzi Della Roma della Roma che vince in casa con il Napoli ben ben 2 a 1 Che partita ragazzi che partita Veramente c'è stato di tutto in questa partita Di tutto tra il rigore sbagliato di Kolarov Tra le traversa di Milik che poi segna Tra il palo clamoroso di Zielinski Comunque vi invito a lasciare un bel mi piace Un bel commento una bella condivisione E ovviamente ragazzi iscrivetevi se siete nuovi E azionate la campanellina ragazzi Mi raccomando è importantissimo Qui sopra nelle schede vi lascio l'ultimo video Anche lo speciale Halloween Se lo siete perso andate a recuperare È molto importante Sono veramente figlio e sto godendo Anche se in realtà So pure un po' incavolato Però ci metto una pietra Sono un po' incavolato perché al fantacalcio questa settimana Mi ha detto male Rigore sbagliato di Kolarov Parleremo anche di quello Innanzitutto voglio fare i complimenti ragazzi alla Roma Che a parte qualche sbavaturina in difesa Ha fatto una partita eccelsa secondo me Ha fatto una partita sicuramente superiore al Napoli Anche se Napoli ci ha dato più la torcia Ma è comunque sempre il Napoli C'è quel Milik lì ragazzi Che sta in straforma On fire veramente Grandissimo attaccante E veramente la prestazione della Madonna della Roma ragazzi Zagnolo sempre lui Sempre lui Zitto Capello Zitto Continua Continua Aspetta Aspetta ancora critiche di Capello Da quando iniziare a criticare Capello Zagnolo non smette più di segnare Continua Continua Fai altre conferenze Critica ancora Zagnolo Devi stare Anzi no Continua Continua Intanto te lo prendi In questo te lo prendi Capello Te lo prendi qui Capello Ciao Mamma mia Mamma mia Mamma mia Gol sull'1-0 appunto Che arriva di Nicolò Zagnolo Su assist di Spinazzola Se non sbaglio Veramente Bellissimo gol Si è coordinato benissimo Zagnolo L'ha in sacca Dove il portiere non ci può arrivare Poi Arriva Sull'1-0 Arriva Dopo poco tempo Il calcio di rigore della Roma Che Kolarov Non l'ha cacciato Magnificamente bene Normale Diciamo Ha calciato rigore Molto Molto Meglio Però Meret è stato bravo a intuirlo Mi è piaciuto tantissimo Meret uno forse dei migliori del Napoli Insieme a Milik Veramente Para il rigore E poi dopo Al secondo te Alla Roma Quindi conclude il primo tempo Su 2-0 Tra cui Milik Che prende la traversa Zierischi Un bolide da fuori Nella stessa azione Su ribattuta Ritira da fuori Aria un bombone E prende il palo Veramente La partita che abbiamo Anche sofferto Ovviamente Perché comunque Con il Napoli Non è facile È un avversario Molto forte Però giocavamo in casa La Roma Mi ha dimostrato Quello che volevo Che dimostrasse Sono contento Sono arrivati I punti Contro le big E così dobbiamo continuare Contro il Milan Contro il Napoli La prossima E contro l'Inter Dovremo Il prossimo big match Se non sbaglio Quindi Veramente La prossima partita Andremo a giocare Andremo a giocare Appunto Fuori casa Non mi ricordo Contro chi Non mi ricordo Il calendario Contro il Parma Che è una squadra Che a noi Ci ha sempre messo sotto Aiuto dalla regia Comunque Sono veramente Contento 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 L'1-2 Appunto Arriva sul Gol di Milik Nel secondo tempo Che lì Abbiamo stretto Dopo il rigore sbagliato Di Kolarov Abbiamo un po' stretto Le ghiapette Però Diciamo La Roma Si è dimostrata Ah Il gol del 2-1 Lo segna Mi sono scordato di dirlo Il gol Appunto del 2-0 Lo segna Vere tu Sul calcio di rigore Quindi non lo ritira Kolarov Ma lo tira Vere tu E poi Arriva l'1-2 Segna Milik Veramente Milik È un grandissimo Attaccante Finalmente I punti Sono arrivati Tre punti Abbastanza Convincente Questa Roma Di oggi Quindi Fatemi sapere Se avete visto La partita Sono curioso Siete arrabbiati Parlo a voi Tifosi napoletani Come avete visto Questo Napoli Secondo voi La Roma Ha meritato I tre punti Rispondetemi Se ha meritato I tre punti Penso di sì Ovviamente Fatemelo sapere sotto Lasciate un bel mi piace Un commento Una bella condivisione Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Venite a seguire Su Instagram Mi raccomando E su tutti i social Che trovate tutti i link In descrizione E se vi è diversi Nel ultimo video Ve li lascio Qui sopra nelle schede Niente ragazzi Da qui è tutto Mannaggia Con la roba Di fantacalcio Ma Ne parleremo Nei prossimi giorni Del fantacalcio Comunque ragazzi Da qui è tutto E noi come al solito Ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Sempre e comunque Forza Roma Sempre e comunque Dai e dai Nicolò Dai e Te amo Nicolò Un bacio Un bacio Dai e forza Roma Dai e Nicolò Un bacio Un bacio Grazie.